In cos'è Tenerife oggi parliamo di remaggi, adesso usciamo dall'ascensore e troveremo i tre remaggi. Grazie per la visione! La remaglia, la remaglia, qui, qui, qui! Venga, venga! Ecco, ecco, ecco! Questa templano, io ho spero di lo darò. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Per me, per me, per me, guana! Eh, 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 ecco! Un applauso con grito!